In esclusiva per Arezzo Channel la TV Amaranto, il nuovo mister dell'Arezzo, Andrea Ciappini, a cui diamo il benvenuto. Benvenuto, grazie a voi. Mister, ci sono 11 partite da affrontare, come? 11 sono troppe, direi la prima e pensiamo a questa. Che ambiente hai trovato qui ad Arezzo, in questo primo giorno? E' chiaramente prematuro per dirlo, su un esonero a livello di gruppo si trova sempre in un ambiente leggermente depresso, ma sarà solo l'impegno e la voglia di far bene, di correre, di lottare che può cambiare la mentalità alla squadra e poi anche alla gente. I giocatori con la squadra, come hai trovato la squadra, stanno rispondendo dopo un primo allenamento o ancora troppo presto? E' presto, dovranno rispondere domenica, in campo, lì che hanno la possibilità di dare una risposta e di dimostrare quello che valgono. Noi siamo sempre in discussione tutti quanti, giorno per giorno però abbiamo l'opportunità di dimostrare il contrario di quello che è successo fino al giorno precedente. E' un'occasione questa per tutti, per far valere le proprie qualità e non solo quelle tecniche, ma soprattutto quelle morali, che sono quelle che poi effettivamente fanno la differenza. Chiudiamo con una parola per i tifosi, cosa si sente di promettergli? Di solito si dovrebbe dire impegno, lavoro, queste cose qui, io non sento di promettere assolutamente niente e non per i tifosi, infatti non per i tifosi, ma c'è stato un problema che secondo me è superficiale. L'unica cosa che io devo ancora valutare è l'atteggiamento e i comportamenti della squadra in campo, se rispettano quelle che sono non le possibilità che poi abbiamo in un secondo momento, ma gli atteggiamenti e i comportamenti siano sempre quelli positivi, secondo me ci sono tutti i presupposti per vincere e vincere questa partita e vivere la giornata fino alla fine. In bocca al lupo mister! Grazie!